Buona giornata Buona giornata Dal campanile uno sguardo panoramico sul nostro paese dal centro storico alla periferia Cayello è ancora deserta ma fra poco si sveglierà e sarà abbastanza movimentata Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Facciamo ora una breve visita Le mamme sono sollecite nel condur di bambini Eccole che arrivano alla spicciolata Al prossimo episodio Aspettiamo un po' al gioco dei nostri bambini Oltre che divertirsi qui essi imparano a vivere in comunità A contatto benefico gli uni con gli altri E' questo il loro incontro col mondo esterno In un ambiente diverso da quello delle loro famiglie Questo è molto importante Grazie a tutti i nostri bambini Con queste ore trasporti all'asilo i bambini sono assistiti e guidati amorevolmente dalle reverende suore Ed oggi festa della mamma noi vogliamo ringraziare vivamente le nostre care suore Esse non sono mamme nel vero senso della parola ma lo sono nel senso più alto e spirituale per l'affetto e le cure che dedicano ai bambini Grazie a tutti Grazie a tutti i nostri bambini 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 Amore 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.